nel presidio vedeva oppure solo o solo bombe ma non fa pure artifici solo bombe e le scambio solo quando trovi una doppia artifici al presidio presidio mi piace non so senti l'articolo o rara non mi piace tanto ma etica e sopra rara beh facciamo solo leggendaria c'è trovato un copri capo raro del blackbird grazie ma intanto non si possono scambiare metà no sono aiuto molte cose che aveva era che dato ci sarebbe fatto così che cosa che c'è di blitz tutto torna nei miei dei miei cellule di tutte skin rare gialle è normale gialle tutte no qua ce l'ho tutti o che cazzo è su tutto pistola tutte cose sicuro che c'è sicuro che non sicuro non devi comprare ci sono dei numeri non è che c'è il reparto dove c'ho già le schienze per farse le vede così le compri quindi l'ho presa al culo lei comprato comprato come fai a comprarlo con tutti i miei credit no no ti diciamo da noi credit ma usi la fama la fama è uguale di sempre che caccia di vuol dire dopo controllo dice che mi c'è sblocca ce l'ho già e allora la cura c'è mai ragazzo che ciò di due pose difendete l'area e proteggete le bombe la squadra d'attacco a trovare una bomba ricarico arma muro in sicurezza apro io apro io siamo a 10 secondi siamo a 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba ricaricatore ne ho ancora uno io volendo mi sa che non ci sono un altro parecchio muro fortificato ah di qua cazzo e vabbè a cazzo non passano da qui ragazzi l'ho visto tropparsi se lo sto metto lo scudo l'ho ucciso lo scudo sull'ascensore sta troppato uno qua sto troppati nell'ascensore me sa cazzo ho preso tutto tranne lui chi è Jackal 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 deve essere in fronte e ti trovo metti i spot no cos'è ma dai mi ha tirato un colpo oh ne ho portato meno di me oh ho visto sto cazzo sta il drone di merda ah ma ho preso un hs che culo da stanza ultimo attaccante rimasto in vita una stanza una stanza a fianco ovviamente destra capdru perfetto no dove? qua esattamente a sinistra si è andato di qua destra eccolo lì perca di me vedi? fa questo è così eh le stanno nerfando queste nitragliette comunque eh veramente sì perché non è possibile che un colpo si fanno headshot no quelle su un micidiale rega sono meglio delle armi principali ok vabbè come dobbiamo affitto scusami eh qua 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 va qua 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 qua... cari qua 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 La squadra d'attacco ha attivato un disinnescatore, va distrutto! Hai sventolato il mouse a casa? Bomba! Che schermo hai? Veramente hai detto di qualcosa? Io ho visto nulla Guarda qua la replay, la replay Hai il 144hz perché come cazzo hai fatto? Ah, ecco! Di differenza Io vi so immagini dettagliate Sì, sì, è uguale Non c'è capito una sega di quello che è successo lì Me lo devo prendere, ragazzi Prima lo devo prendere al 1070, poi me lo devo prendere al schermo Hmm Un bello schermo, Samsung OLED Ehhh Curvo e metropoli Dovete usare drone per trovare una bomba Stato 257 Il drone ha trovato una bomba Un poco dell'eserimento E' girato Come si è fermato E' girato E' un poco più E' il drone che si può prendere Un po' d'accomprenenza Un po' di lavorare E' un problema Un bello spazio Un semplice Un po' di rotevare Un po' di rotevare Un semplice abbiamo il disinnescatore, raggiungete la bomba e disinnescatela, occhi aperti per il nemico guarda, dov'è? qualcuno che conosce le armi? non so, ci sei tu, domanda a me, questa qua ah no, il colore universale, quello quanto stanno giù? mi ricordo che stanno meglio, stanno in un piano che macello che stiamo a fare andiamo a trovare qua, perché sfondo? no, mi ha rotto, no, scusa mi hai rotto tu? va bene, va bene hai perso il disinnescatore? non ci credo aspetta, non lo faccio guarda, 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 guarda dove stava, gabbro? è, stava dentro lì il disinnescatore è stato recuperato lo stavo guardando eccolo grande ok nuovo caricatore 71 qua vediamo che c'hai? le smoke con glaz? a dietro nuovo caricatore non hai più disinnescatore panca troia, che coglioni eccolo, ecco la caveira ah perché c'è il pompa, ecco come cazzo ha fatto difensori eliminati, missione d'attacco riuscita l'ho preso anche due volte, cazzo comunque penso di sedia per le smoke, non sono sicuro devi vedere devi vedere devi vedere perché con glaz ci vedi il traverso, capito? quindi ti tirai la smoke e ti copri la eeeh eeeh guardate bar? il ristorante senza cieli ma dovremmo pure andare su acea acea? ci dovrebbe venere l'acqua se vende l'acqua vende l'acqua e risultati difendete l'area e proteggete le bombe se lo devo ricordare qui qua occhio la posizione della bomba è compromessa fortifico il muro questo questo c'è il gabuna fatto? questo si no quello no ancora 10 secondi basta droid merda cosa serve questa cosa? ancora 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica perchè l'hai spaccato? così guardi attraverso se ti mettessi questa merda di cosa qui va bene la mettessi a blu per terra se me la mette si niente non so perchè daaaah un ticello di ferro ragazzi ticello di ferro? cazzo scendenza cazzo è fuggita da di là cazzo è fuggita da di là dopo che non dovrebbe ticino contento ma da davanti a me sta qua, eh vabbè pure wallbang nuovo caricatore vedi da questi mitaglietti di merda davanti a te a destra ci chi li stanno? sta a rompere termite più eh raga oh eh li sono tutti lì dentro sta a pianta la squadra d'attacco disarva una bomba disattivate il disinnescatore disinnescatore trovato proteggete le bombe disattivate il disinnescatore beh sali a sinistra non dovrei mai ultimo nemico no qual si vai 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 Spring きた troia due tre cinese perso Click disinnescatore disattivato ma io non lo vedevo adesso quando ci si sta di usare? ho troppo colpi no ma non c'è scritto in seconda c'è il cerchietto posso confermare Termite o lo vuole fare qualcuno? no no vai vai infatti le fate io però sto giro mi vi ho sono trovato bene con Termite ultimamente la Termite ha un colpo abbastanza preciso si si mi trovo molto bene anche perchè ha un pallino di scudo in più rispetto ad Ashe quindi è più lento però vabbè chiaramente però mi trovo meglio così con Ashe mi stavi killavano più cazzo che cazzo sono ma perchè devi correre un botto Ashe il drone ha trovato una bomba si lo senta si lo senta oddio aiuto risalto di là 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 5 secondi all'inserimento io ho rotto due batteria il disinnescatore è di nuovo nostro procedere a disinnescare la bomba aspetta aspetta c'è stata c'è la cosa? c'è stata? c'è la ma se scendere è tirata via va e dai stai sparando dai dai che pure c**o non ce l'ho lasciato carico la filippina ho attivato il prole lì mi sa che c'è vigile si ah è passato lì eh posso scendere da di qua? attento a sinistra che c'era Eda che ancora è andato vigile è dentro la saletta c**o ho fatto un piano il disinnescatore è stato recuperato occhio è di tre co di chi è sto c**o di cosa? è mio è mio beh qua non c'è più vigile coplitemi ricarico ma che c**o? qua c'è vendita ah non c**o dentro nuovo caricatore nuovo caricatore mp in uscita eh vabbè 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 vabb la gialla è canarino ah, hai idee, c'erano tutti? no, se...